Su Radio Bruno, opportunità in Europa, istruzioni per l'uso. Una rubrica a cura del centro Europe Direct PISA. Ben ritrovati a tutti con Europe Direct, opportunità in Europa, istruzioni per l'uso. Oggi con noi torna Federica Pierotti. Benvenuta a Radio Bruno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Parliamo quest'oggi di un progetto di mobilità europea che ha 200 posti di lavoro disponibili. Allora, questa opportunità riguarda il programma Your First Everest Job, un'iniziativa di mobilità europea con lo scopo di supportare sia i giovani che le aziende che ricercano personale. È un fondo gestito proprio per inviare lavoratori all'estero e in questo caso si cercano 200 giovani sia in Spagna che in Portogallo nel settore del turismo e per quanto riguarda l'high tech invece nei Paesi Bassi. Questo programma è dedicato proprio ai giovani fra i 18 e i 30 anni. Le informazioni ovviamente le potete trovare come sempre sul sito di Europe Direct www.politichewebisa.net Parliamo anche quest'oggi della Corte dei Conti Europea. Che opportunità c'è in questo campo? Sì, è un'altra istituzione dell'Unione Europea che ha sede in Lussemburgo. La Corte dei Conti ha funzioni giurisdizionali e amministrative di controllo in materia di entrate e spese pubbliche. Si può fare domanda tutto l'anno, vengono offerti dei tirocini, in alcuni casi possono avere anche un compenso, in altri casi invece non sono retribuiti e sono dedicati a tutti i cittadini membri dell'UE con un diploma universitario riconosciuto o che abbiano completato almeno quattro semestri di studio universitario in un settore che riveste interesse per la Corte. Bene, ovviamente anche per questo il vostro sito di riferimento. Sì, certo, oppure il sito ufficiale della Corte dei Conti Europea. Grazie mille Federica per essere stata con noi e ci ritroviamo alla prossima puntata. Va bene, arrivederci.